Allora rieccomi, voglio farvi vedere come, allora così sono i miei capelli solo quando faccio l'acconciatura mossa, solo pettinati, non ho fatto nient'altro, vedete che qua in questa posizione rimane sempre un pochino, rimangono i capelli un pochino crespi. Allora vi faccio vedere che è accesa questa spazzola calda, allora questa non ha, come ho già detto tante volte, è un po' vecchiotta, non ha regolazioni, non so probabilmente quelli che fanno adesso hanno delle regolazioni, si può regolare. Questa mi pare che sia a 180 gradi come calore, quindi non è, ok, li giro appena in questo modo, li giro così e adesso ne fanno una che ha i dentini anche in questa posizione, nel modo che questo lavoro che sto facendo io rimane, si aggancia a questi dentini e rimane molto più facile. Io adesso faccio così esclusivamente perché poi passo l'altra spazzola, come ho già fatto in un altro video che avete visto. tanto oggi lascio i capelli sciolti, non li raccolgo, quindi mi porterò però, insomma visto che ho delle cose da fare, mi porterò una pinza in maniera tale che se mi dovessero dare fastidio userò la pinza. che è, eccolo qua, faccio anche questo, a volte uso anche solo questa, sapete, proprio per, per riuscire, quando non ho voglia di fare tante cose. Le faccio così, essendo una spazzola calda, un pochino rimangono, sono abbastanza ordinati e non è che c'è bisogno di fare grandi cose. qui che altro sopra, ecco, ecco, come ho detto, questa la uso molto volentieri, questa spazzola calda, quando devo, quando li faccio proprio lisci spaghetto e con la piastra, e poi li preferisco gli altri giorni usare appunto questa per mantenere il liscio piuttosto che ripassare la piasta perché si rovinano. chiaramente, ecco, io non lo dico mai perché lo do, lo do per scontato. Guardate che io quando tratto i capelli, quando li lavo, metto sempre un protettore sotto prima di asciugarli, prima di usare dei, diciamo, qualsiasi attrezzo caldo. Questa è una cosa che faccio sempre, io do per scontato, eh, che di dirvelo, cioè che lo sappiate, ecco, perché chiaramente con qualsiasi aggeggio caldo per proteggere i capelli ci vuole assolutamente un protettore. un protettore, alcuni mettono un pochino di maschera nelle mani, anche appunto un amico mi ha insegnato anche a farlo con una maschera nelle mani, in alternativa al termoprotettore. Io uso indifferentemente l'uno e l'altro sistema senza, senza tante cose, vedete, così. C'è da lì, non è. Così. Così. Ecco, nuovamente, questo è il punto, veramente, che mi infastidisce di più, perché proprio questo è il punto che mi infastidisce di più. Allora, adesso, la spengo, guardate, ah, l'azzurro, sono gli oni, perché per non far venire i capelli elettrici, diciamo così. Allora, stacchiamo questa e do solo una velocissima passata, con questa, solo proprio per girarli soltanto, appena appena, senza, ma considerate che proprio molte volte non lo faccio nemmeno, proprio li lascio come avete visto. Adesso è solo perché in questo punto, molte volte sono proprio... Alcune mi hanno detto, ma lasci i boccoli. Lasci i boccoli. Ma certo che no, boccolo serve solo per girare il capello. E poi si apre, si lascia raffreddare, e poi si apre, così rimane questo leggerissimo mosso. Qualcuno mi ha scritto, ma sono liscio. No, non sono liscio, il capello è liscio, è il capello liscio, questo è un leggerissimo mosso. Tra l'altro, con una scalatura, tipo butterfly che ho io, rimangono già leggermente girate, perché è già il taglio che porta a girarsi. Vedete, questo è il punto veramente tremendo di tutte le ricce, no? Riusciamo a sistemarli bene, in molti, vedete, anche sopra, diciamo sotto, e in questo punto i capelli rimangono sempre un pochino crespini. Facciamo ancora un giro. Faccio di fare una cosa veloce, così posso farvi vedere il risultato finale. A volte mi dicono, tu fai il video, poi non ci fai vedere il risultato finale. Avete anche ragione, è che quando arrivo al limite dei minuti stacco e via. Olè. Boh, non credo di avere finito. Allora, questo è, come vi ho già fatto vedere tante volte, l'olietto che metto sul punte e sul, diciamo, ovviamente io parlo di punte, intendo anche le lunghezze. Ecco qua. Già così. Io do ancora una girata in questo senso. Anche qui. Ecco, faccio questo. Lavoro. Ok. A chi non piacciono i capelli lunghi, prego, schippare. Ok. Voilà, cari amiche. Un bacione a tutti e un grande saluto. Ciao.